Sfratti e Parco Urbano sono stati temi al centro dell'attenzione del Consiglio Comunale di Fano che ieri si è riunito nella Sala della Concordia, in quanto nell'aula proseguono ancora i lavori per il voto elettronico e per la sistemazione degli impianti audio e video. La seduta si è aperta con l'inno di Mameli e con gli auguri di buon lavoro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverso una lettera del Presidente Renato Claudio Minardi. Tra il pubblico invece non sono mancati sia l'Assemblea di lotta per la casa che una delegazione di coloro che sono a favore del parco dall'aeroporto. Dopo la surroga del Consigliere Mirko Carloni con Alberto Santorelli è stata discussa e approvata all'unanimità la mozione del Sindaco Massimo Seri che chiedeva sei mesi di sospensione degli sfratti esecutivi per morosità incolpevole. La mozione, che è stata poi integrata con alcune proposte avanzate dalla minoranza, impegna il primo cittadino e la Giunta a stabilire con il prefetto di Pesorio Rubino, Luigi Pizzi, le modalità e i criteri relativi alla dilazione. È stata approvata la mozione come primo firmatario del Sindaco, quindi un bel segnale il Consiglio Comunale è unito e compatto su questo tema. L'altra mozione è stata presentata dai consiglieri di maggioranza sul parco urbano che ha come fine quello di procedere velocemente verso la progettazione e quindi poi la realizzazione del parco urbano. Ovviamente il parco urbano è un tema che sta a cuore a tutti, tant'è che anche questa mozione è stata approvata all'unanimità da parte di tutto il Consiglio Comunale. L'obiettivo è quello di acquisire le aree, ma ormai i passi avanti importanti sono stati fatti, nel senso che ci sono già provvedimenti che prevedono il passaggio di proprietà del bene demaniale al Comune di Fano e nel contempo si vuole andare avanti con la progettazione. Quindi progettare il parco per poi realizzare questo che sarà un bene che dovremo lasciare alle future generazioni. Quindi tanti sono gli spazi che in un parco devono essere realizzati e tante quindi devono essere le possibilità che ognuno può in qualche modo avere e spazi all'interno dei quali si possono avere fruibilità diverse.